La prima squadra, addirittura, quando arriverà la prima squadra? Qui la prima, Focazzi è stato caldo, oggi dovete amare il campo, oggi l'erba non ci deve stare più perché i veri dei onde si incazzano di campo, quindi vi voglio vedere incazzati col colore nero-verde a qualche luna di me